ebbene si è tornato l'amore tra mirko e perla perla e mirko sono innamorata dei perletti benvenuti ragazzi e ragazzi con questa nuova puntata di spiriti with me cristiano cervigni dedicata al triangolo no non l'avevo considerato perla mirko e greta effettivamente era un po' di tempo che avevamo messo da parte questi tre ovviamente perché ormai ci avevano un po' scassato cazzo avevamo detto tutto quello che potevamo dire abbiamo anche raccontato le varie teorie del complotto che secondo molti utenti aleggiavano in questo triangolo teoria del complotto che probabilmente non era veramente una teoria del complotto ma forse qualcosa di vero può esserci stato ma parleremo di tutto oggi quindi andate a mettervi comodi andate a prendere il vostro drink o snack preferito stavo per dire bevanda perché a volte mi sbaglio non so se ve ne accorgete ma dico drink e bevanda preferita invece è drink e snack che è snack e bevanda preferito io qua ho la mia acqua come sempre perché siamo un po' in detox non lo so cosa mi sta succedendo lasciate perde se sentite un po' di rumore di sottofondo tipo è il mio purificatore dell'aria perché milano ennesimamente è super inquinata quindi sorso iniziale mettete mi piace a questo video ovviamente se lo guardate da youtube e state pronti perché bisogna parlare di tante cose allora nella puntata di lunedì del grande fratello è successo quello che i perletti speravano ormai da sei mesi super giù come bene avete potuto vedere nei primi secondi di questo video mirco e perla direttamente fuori dalla casa del grande fratello durante un incontro si sono lasciati andare ad un bacio molti dicono appassionato ma non era un bacio appassionato va bene parleremo poi in un bacio perché ufficialmente ragazzi ragazze e ragazzo perla ce l'ha fatta ha riconquistato il nostro mircone nazionale dopo mesi e mesi di agonia finalmente mirco ha detto ha dichiarato ha ammesso di amare ancora perla e quindi i due sono tornati insieme posso dire che è ancora amore ma cos'è successo raghi durante la scorsa settimana mirco era rientrato dentro il grande fratello per qualche giorno per a detta degli autori del grande fratello sistemare le situazioni che aveva lasciato in sospeso con perla ora raghi ma che situazioni avevano ancora in sospeso perché a me la situation sembrava ovviamente palese io ve l'ho sempre detto abbiamo smesso di parlare di loro proprio perché ormai erano in un punto di stallo il mio pensiero era perla è ancora innamorato di mirco ha fatto di tutto per riconquistarlo addirittura è entrata anche dentro il grande fratello per rovinare i giochi a lui e a greta mirco in realtà che stava in quel momento si sta parlando ancora di mesi fa ragazzi stava con la nuova fidanzata greta che era la tentatrice di temptation island con la quale lui è uscito però sempre secondo me mirco non era innamorato di greta c'era soltanto una grande attrazione ma al tempo stesso non era nemmeno innamorato di perla ok tant'è che per sfuggire sia l'una che all'altro si era andato dentro il grande fratello cosa che però gli è stata rivoltata contro perché prima perla poi greta entrano a dargli fastidio gli stessi perletti ragazzi i perletti sono i fan della coppia mirco e perla per chi non lo sapesse hanno eliminato al televoto mirco perché lui è stato colpevole di non aver scelto né perla né greta quando alfonso signorini durante una delle prime puntate gli aveva detto senti ma te per chi propendi di più per greta o per perla e lui aveva se ne era lavato le mani dicendo ami io voglio sta da solo che è la cosa che ha continuato a dire per mesi mesi e mesi nonostante lui fosse stato eliminato ed è la stessa cosa che anche io vi ho detto per mesi e mesi e mesi mirco non era né innamorato di greta né innamorato di perla era innamorato della popolarità del nuovo successo ottenuto della nuova magari non lo so carriera da televisiva o da influencer delle serate degli sponsor ok fatto sta che adesso i perletti io me l'immagino già ma prima guardate tutto questo video e poi commentate con le vostre opinioni mi potete anche venire contro ovviamente i perletti a questo punto diranno egno cristiano vedi te vedi sempre il marcio su tutto però è palese perché nella puntata di lunedì del grande fratello mirco si è dichiarato mirco aveva la voce tremante mirco era super emozionato e ha dichiarato il suo amore ritrovato per perla infatti mirco nonostante fosse stato ospite due giorni nella casa poi è riuscito ovviamente perché era stato eliminato come concorrente era soltanto un ospite però è stato protagonista insieme a perla della prima parte della puntata in quanto gli autori e il grande fratello lo hanno fatto ennesimamente parlare con perla prima a distanza e poi si sono incontrati e durante questo incontro mirco ha dichiarato questo si è rafforzato il nostro rapporto il sentimento che ci lega è profondo per le sensazioni che ho sentito durante questi due giorni posso dire che è ancora amore ovazione del pubblico in studio pieno di perletti la ragazza che ha inventato la canzone mirco e perla perla e mirco brunetti sono innamorata dei perletti non lo so forse svenuta perché boh sarà stata in un brodo di giugiole fatto sta che poi perla risponde a queste dichiarazioni inaspettate di mirco e risponde così sì sono d'accordo perché ce lo siamo detti ed è un sentimento che non è mai finito quando stiamo insieme sembra che non ha mai avuto una fine la nostra relazione tant'è che poi mirco controbatte così un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità ho usato molta razionalità a fare la giusta cosa quando sto con perla il tempo si ferma e un motivo c'è non ho mai accettato che fosse finita ci siamo dati troppo e perla finisce mi fa piacere si è lasciato andare sta affrontando quella paura che mi ha rivelato nei giorni scorsi così poi si sono riabbracciati e poi il pubblico ha richiesto a gran voce il bacio 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 che è già stato e lo avete visto ok questo è quello che è successo poi lui se ne è tornato in studio perla se ne è tornata tutta felice dentro la casa del grande fratello fatto sta che il messaggio è inequivocabile i due stanno insieme sono tornati insieme dopo tutto il blambaradam di cui abbiamo parlato in questi ormai otto mesi perché temptation island è iniziato a fine giugno l'anno scorso finalmente il cerchio si è chiuso c'è qualcosa che però raghi io ve lo devo dire perché ormai lo sapete no raccontiamo un po quello che succede però io vi dico anche le mie un popular opinion per fare per creare una mega discussione fra di noi ok e voi ovviamente potete commentare qua sotto allora raghi ma cosa è successo durante questi due giorni a mirko per fargli cambiare idea perché io me lo ricordo ragazzi ragazze e ragazzo che lui da luglio fino all'altro ieri ha continuamente sostenuto la sua tesi il suo pensiero e cioè che per perla non provava più amore ma soltanto quel grande affetto che si prova per una persona che comunque ha fatto parte della sua vita o l'ha ripetuto in live su instagram mille volte lo ha ripetuto anche agli altri suoi amici di del grande fratello tant'è che lo stesso mughini interpellato poi da alfonso signorini dice questo io da come me ne parlava mirko sembrava che la storia fosse chiusa e che ora la storia riprenda con milioni di persone che lo applaudono mi lascia emozioni contrastanti raga è negabile è vero e adesso vi dico cosa penso io e poi andiamo a raccontare la teoria del complotto e poi vi vado anche a raccontare la risposta di mirko a varie polemiche allora raghi io penso questo ok mirko e perla perla e mirko sono innamorata dei perletti dopo temptation island basta mirko era pieno non ne poteva più ok l'ha infatti mollata e se n'è andato con quell'altra la greta che poverina allora greta magari siccome era libera di sentimenti vi ho già detto mille milioni di mesi fa magari c'è anche creduto un po in questa relazione tant'è che i due dopo una settimana nemmeno si sono fatti il tatuaggio insieme i tuoi occhi la mia cura e a te e te non ti fai un tatuaggio insieme a una o a uno così d'amblè perché ti fa voglio perché vuoi tre like su instagram io voglio ben sperare che questo tatuaggio era una cosa sentita ok e non calcolata per far polemiche per far parlare di sé perché se no siamo proprio a dei livelli ma minimi 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 eh fatto sta che a mirko non piaceva cioè piaceva greta ma non era innamorato di greta perché una volta fuori dal programma greta ha rivelato il suo vero carattere e cioè magari anche data da varie cose che mirko le nascondeva si è rivelata gelosa un po' piccicosa un po' possessiva ma soprattutto non si fidava anche perché mirko ovviamente rimandava il messaggino a perla e poi c'era stato c'era stata quella sfilata la fashion week che lui non diava che lei che che mirko non gli aveva detto nulla greta insomma o sì ma mirko di perla un gliene può fregare meno in quel momento poi che è successo siccome leva di sparsi anche di greta se ne è andato al grande fratello tant'è che lui si è rinchiuso al grande fratello senza dire nulla a greta e io lì ho pensato ma come scusa ok avete litigato ok tutto quanto la lontananza e che voi ma te è la sua fidanzata ti rinchiudi sei mesi in un programma televisivo glielo dici glielo fai capire invece no lei deve scoprirlo dalla televisione e dai siti di gossip e da spilling the tea benissimo e qui vi fa capire molto l'interesse di mirko per greta insomma inizia questa avventura del grande fratello di mirko rovinata dall'entrata di perla raga perla io l'ho sempre detto è sempre stata innamorata di di mirko sì di pirlo di mirko voleva ritornare con mirko tant'è che quando ha fatto il falò di confronto ne allontano luglio io vi avevo anche detto ma ok va benissimo si sono lasciati perché si lasciava ma lei si aspettava che lui la prendesse la portasse via c'è rimasta molto male insomma l'incursione di perla dentro la casa del grande fratello era stata fatta con uno scopo preciso riconquistare mirko ma mirko all'epoca era ancora fidanzato con greta greta che prima di entrare anche lei come concorrente decide di mollarlo dallo studio del grande fratello e poi entrare ok a questo punto gli autori ci sguazzano perché ci hanno sguazzato per mesi tant'è che mettevano mirko in varie situazioni ma scegli greta o scegli perla perché tutte e due pendono dai tuoi occhi dalle tue labbra scusate però ti devi move devi fare una scelta ok mirko però di tutto questo non gli interessava perché era pieno sia di greta e sia di perla non aveva sentimenti per l'una né per l'altra ok tant'è che lo dice e lo ripete mille volte tant'è che i perletti lo fanno fuori alla prima occasione al televoto infatti lui esce ok una volta uscito mirko e qui io vi ripeto ancora la mia un popular opinion mirko si è reso conto della potenza dei perletti di quanti erano e di quante persone scippavano lui il ritorno di fiamma tra lui e di perla ha saputo sicuramente che perla perché lo abbiamo saputo tutti noi ce ne siamo accorti quindi se ne sarà accorta anche lui che perla aspettava soltanto uno schiocco di dita per ritornare con lui e chissà secondo me il nuovo successo trovato bo lo avrà fatto pensare avrà parlato con bo il suo manager l'agenzia e avrà fatto due calcoli raga secondo me perché tutti siamo umani facendo due calcoli lo sappiamo tutti che una coppia tira molto di più di un singolo e tira di più per le sponsorizzazioni tira di più in televisione tira di più per le visualizzazioni tira di più per i follower e tira di più per le serate d'estate raga e quindi facendo due calcoli alla mano questa avrà detto aspetta un attimo tutta italia vuole che io torni insieme a perla perla è innamorata persa di me in più magari tra un po' è estate quindi una volta che finirà gran fratello prima o poi uscirà anche perla noi staremo insieme super popolari super acclamati super serate in discoteca o serate inaugurazioni di negozi e varie cose ci facciamo un monte di quattrini e è quello che vogliamo ok e quindi di punto in bianco se ne è tornato con questa roba io e amore ho capito che amore dico così perché durante i due giorni in cui lui era rientrato dentro il grande fratello con perla ok alle due le telecamere si spengono e possono fare quello che gli pare però quando perla gli va sopra le gambe lui si allontana quasi schifato e dice ma che stai facendo quando perla la braccia o prova a baciarlo lui è così che fai raga è innegabile che questo non è uno innamorato è uno che dice mamma ma che mi tocca fa pe sordi un ne posso più e quindi questo è la mia un popular opinion mirco e perla perla e mirco sono tornati insieme sì ma mirco non interessa cioè a mirco interessa la popolarità e tutto quello che verrà fuori con la potenza mediatica della coppia riunita chi perde tra tutti e tre greta no perché ormai si sta facendo la sua vita perde perla perché perla io penso che sia l'unica che soffrirà perché comunque lei è quella namorata adesso ora come ora soffrirà però anche po perché poi quando vedrà magari tutte le serate che hanno da fare d'estate tutti i soldi le sponsorizzazioni le varie cose ciao soffrirà in ron royce invece che in una panda fatto sta ragazzi ragazze e ragazzo qui abbiamo da parlare di una teoria del complotto raga io scusate mi tolgo mi levo l'occhiale così ma mi vedo giallo sono le luci raga scusate ho sbagliato ho fatto skin care sono un po lucido vi ricordate che noi tempo addietro in tempi non sospetti abbiamo parlato di una teoria del complotto che andava molto di moda sui social riguardante mirco e perla perla e mirco sono innamorata dei perletti la teoria del complotto voleva mirco e perla in combutta e quindi d'accordo fin dall'inizio della loro partecipazione a temptation island per fare tutto quello che è successo realmente o raga è successo tutto perché la teoria voleva i due a temptation island che si lasciavano e che andavano con altri cioè si frequentavano e si fidanzavano con altri per far parlare di sé per tutta l'estate e questo è successo perché mirco è uscito con greta perla è uscita con igor ok la teoria voleva che a settembre con ritorno di uomini e donne i due lasciassero i propri fidanzati i propri un magna magna per poi tornare insieme non è successo a settembre però a settembre perla ha mollato igor e mirco non è che ha mollato greta ma è entrato dentro il grande fratello quindi qui ancora più ingarbugliata la nostra teoria del complotto ha voluto che tutti e tre erano d'accordo con l'entrata di tutti al grande fratello per continuare questa tiritera del triangolo no non l'avevo considerato fatto sta che poi alla fine questa teoria del complotto diceva che mirco e perla sarebbero tornati insieme alla facciaccia di tutti ma dopo sei otto mesi un anno di tempo i due saranno fatti follower saranno fatti mesi e mesi televisione saranno fatti i grandi soldoni raga è appena successo tutto quello che vi avevo raccontato e che vi ho riraccontato riassunto con la teoria del complotto quindi qui sorge un altro dubbio non è che in realtà ragazzi ragazze ragazzo ok sì magari sono innamorati ma la teoria del complotto in realtà non è una vera teoria del complotto ma era realtà che i due veramente erano d'accordo di fare tutto questo baradam non lo so allora io di teoria del complotto ok ve la racconto così perché non è che ci creda molto è vero che è molto strano che casualmente tutto quello tutti i punti della teoria si sono avverati avverati nei mesi a seguire ma io ritorno a dirvi teoria o no o verità io sono dell'idea che mirco non gliene frega niente di perla ma una volta uscito per colpa dei perletti dal grande fratello e quindi non non potendo più prendere il cachet delle delle settimane no passate dentro la casa ma prendendo il cachet degli incontri che faceva ogni settimana perché comunque continuavano a parlare solo di lui e di perla e soprattutto spinto dagli autori perché gli autori ragazzi si può dire quello che ci fare ma l'autore è da settembre che spingono perla e mirco mirco e perla perché sanno che i perletti guardano il grande fratello e fanno alzare lo share e questa edizione del grande fratello ne aveva bisogno mirco uscito di lì ha visto ha toccato con mano anche tramite commenti sui social e tutti i video dei perletti la potenza mediatica della coppia mirco e perla perla e mirco sono innamorata dei perletti e quindi si è fatto due calcoli raga è normale è così secondo me è così e vedrete cioè la verità la scopriremo solo vivendo una volta uscita perla dal grande fratello vedremo quante sponsorizzazioni di gruppo quante serate in estate faranno e soprattutto quanto durerà questa coppia perché voi potrete dire ok cristiano io non ti credo perché credo nell'amore poverino lui era molto tremante era molto emozionato ami il suo piangere raccomando non vuol dire niente quello si sa recitare molto bene quando vogliamo fatto sta è che ok non ami più perla ti ci rimetti insieme per business per successo per popolarità ma quanto puoi durare un'estate cioè il tuo progetto è fare tutta l'estate prossima così da fare tanti soldi e poi magari vi rimollate e rinizia tutta la tiritera perché uno quanto può fingere di amare una persona boh lasciamo perdere poi tutti i problemi che avevano e che avranno sicuramente e quella se la giocheranno loro noi parliamo di cose che vediamo in televisione perché ce l'hanno sbattuto in faccia fatto sta ragazze ragazzi un'altra cosa che mi fa pensare questo e quindi che mirko non è innamorato di perla è il bacio che c'è stato che vi ho mostrato inizio video allora non è un bacio da innamorato ok perché innanzitutto si è guardato bene di aprirla la bocca permettici un po di linguina è stato un bacio così proprio perché era richiesto ma a tal proposito mirko risponde anche alla polemica del mancato bacio con la lingua ok che è una cosa brutta in televisione quindi ha fatto bene da una parte ma dall'altra anche un bacio a stampo c'è modo e modo di darlo e quello non era un bacio appassionato però lui ha detto io ho cercato di tutelare tutto questo siamo mesi sotto l'occhio delle telecamere e ho fatto le cose piano piano adesso la potrei anche baciare per far contento come dice qualcuno il pubblico non lo faccio ma semplicemente perché me lo voglio godere quando uscirà con calma senza le telecamere perché vale tanto a me ma ma che dici ma dai ma se sei innamorato non stai a pensare no ora non voglio dare il contentino a loro lo farò di nascosto dietro le telecamere ma se sei preso dalla passione te ne freghi delle telecamere ce l'avete fatto capire molto spesso anche a temptation island dai e via ma mi viene a dire l'aspetto fuori ma che aspetti fuori che questa non esce più fino alla finale ha voglia di baciar muro ora vabbè fatto sta ragazzi vuoi o non vuoi questo cerchio finalmente si è chiuso abbiamo atteso otto lunghi mesi ma la situation perla e mirco mirco e perla e greta è finita qua perché finalmente mirco e perla hanno avuto il loro lieto fine quindi questa favola termina qua e vissero felici e contenti fino a dopo l'estate poi vedremo fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate se la pensate come me o magari la pensate diversamente perché boh avete i prosciutti negli occhi o siete delle persone meno ciniche di me o delle persone che non capiscono cosa c'è dietro tutto questo mondo perché raga di sordi ne girano tanti e quando ne girano tanti la gente fa presto a perdere capo a iniziare a far architettare tutte ste robe io voglio mettere voglio mettere in dubbio la mia cattiveria e dire boh speriamo per loro che sia veramente amore ritrovato però la storia ci ha insegnato sempre diversamente ma detto questo aspetto tutte le vostre opinioni qua sotto tramite commento la stagione mirco e perla termina qua chissà se ce ne sarà una nuova a brevissimo oppure no io spero di no perché basta anche meno iniziamo con nuove persone mettete vi piace a questo video se vi è piaciuto per oggi è tutto iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi ovunque tanto mi chiamo sempre cristiano cervigni dovunque in ogni social basta non si parla più ci vediamo domani ciao wow